Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, come i tanti pellegrini anche noi in questo percorso, vedete in sovraimpressione questo indirizzo di posta elettronica perché attraverso questo indirizzo voi potete raccontare la vostra testimonianza, come ad esempio ha fatto Claudio che si è andato ad incastonare attraverso un fatto che gli è capitato quando era ragazzo in un fatto storico della vita di Padre Pio, lui ci racconta di Madre Speranza, Madre Speranza da Collevalenza che lo stesso Padre Pio ha incontrato spesso a Roma, Padre Pio non è mai stato a Roma ma l'ha incontrata in bilocazione, qui Claudio ci racconta, ho visto un video su YouTube, una suora della chiesa di Collevalenza in Umbria, ha parlato della bilocazione di Padre Pio perché Madre Speranza diceva di averlo conosciuto in Vaticano e quindi lui racconta, che ha ascoltato da questo video, all'epoca Padre Pio era preoccupato per le accuse nei suoi confronti, il padre si recava spesso al Santo Uffizio e qui conobbe Madre Speranza, la suora inoltre dice che è una bilocazione perché Padre Pio non è mai andato al Santo Uffizio, infatti è proprio così, quindi Padre Pio e Madre Speranza non si sono mai incontrati di persona e tantomeno Padre Pio è stato a Collevalenza ed è anche giusto anche questo Claudio, ma il problema è proprio quest'ultimo punto, racconta Claudio, sono nato nel 1956, da piccolo abitavo a Narni in provincia di Terni, ero piccolo e potevo avere circa 7-8 anni in parrocchia, un giorno mentre giocavamo un prete, Padre Giuseppe, ci chiamò perché sapeva che sarebbe giunto Padre Pio da Pietrelcina, proprio a Collevalenza, ci disse di prepararci per l'indomani da tenere presente che io non conoscevo Padre Pio e né tantomeno Collevalenza, il giorno successivo con una maestra, Padre Giuseppe ed altri due bambini con la macchina andammo al santuario di Collevalenza, ricordo molto bene quell'incontro, ci ricevette uno per volta, ognuno di noi diceva il nome, baciava la mano, si inginocchiava ai suoi piedi, così ho fatto anche io, gli dissi mi chiamo Claudio e lui chiuse gli occhi e alzo il viso in su, poi riaprì gli occhi e fu molto duro nei miei confronti, mi fulminò con lo sguardo e questo fatto, scrive Claudio, mi impressionò molto, tanto da restare gelato, Padre Pio mi ha detto figliuolo, ricordati sempre di non allontanarti mai dalla chiesa, non risposi perché ero impressionato e allora lui ripetè, hai capito? Sì Padre, ho risposto, alzo nuovamente il viso in su con gli occhi chiusi e poi il suo viso lo vidi nuovamente cambiato, aveva gli occhi sorridenti, una voce dolce, mi benedì con la mano destra, mentre la sinistra l'ho sentita molto calda e grande sul mio capo, questa è la storia, potrebbe essere una fantasia, il sogno di un ragazzino perché Padre Pio non è mai stato lì, è un mistero che mi accompagna ogni giorno e mi chiedo se veramente Dio è venuto a cercarmi in questo modo.